e bonjour popolo di youtube ben tornati in un nuovo video questo sarà un video squissi no non è un video squissi qui c'è la mia compagna denise saluta dai ma come ridi lasciami la scimpanse in coma ok saluta ciao vabbè baldo le cianci incominciano allora vai entrare la prima barbi serviti pure accomodati il tuo porto cellulare personale accomodati buongiorno un castoro un giorno mi signorino cosa vuole sentire la mia barzelletta volevi parlarne una volta nella mia macchina stavo andando a fare un comune servizio parlavano così all'improvviso mette la radio al posto di andiamo a comandare un castore in tangenziale andiamo a consegnare ogni legno nel tuo cane mi spiegate cosa significa forse che un castore va a consegnare il legno no significa che un castore in tangenziale vado a consegnare vabbè ciao non l'hai capita ok secondo ciao 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 ho fatto così adesso mettiamo così aspettiamo che arrivo presto deni che devo aprire saccate caccia che via vado e sac si gira c'è finito che finifica si chi ma sto parla senza senso come permetti tu di dissi mia lingua cinese ma terzo cac 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 in fretta dai e tada tada conoscete la sicilia vabbè ovvio è ovvio oggi stavo imparando storia l'ho detta mia madre io comunque che per chi non sapessi va di un quinto iniziale stavo parlando a mia madre dice dimmi la dimmi parlano della sicilia si parla in siciliano e la nuova città la conosce la sicilia secondo te che città è siciliano la sicilia brava la sicilia la sicilia al posto di invece pensiamo lago di como dovete saperemo la mamma come le ha definiti la il lago di como si i comunisti comunisti comunesi se vuoi andare a ridere a bella speriamo che pensiamo ma c'è il tuo porto a cellulare personale si divertente volete sapere io volete sapere dove nascondo lo vatta perché se la mia madre lo scopre oppure come ho ridotto un mio squiscio pallina durissimo comunque guardate poi questa è la fine del merito slime e la verde adesso non so cosa è successo ho messo troppo detersivo per farmi se la mia madre non si fa poi questa è la fine di del merito slime e la verde adesso non so cosa è successo ho messo troppo detersivo per farmi e questo è il risultato del mio temperino il risultato del mio Grazie a tutti.